ragazze pomeriggio insieme vi faccio vedere un po di vetrine per chi rimane a casa vi faccio uscire con me qui sono al poseidon camomilla come vedete si usa di nuovo la pelle guardate che bello questo maglioncino grigio un amore anche questo questa sciarpa bellissima insomma ci sono un po di cose vediamo che cosa c'è qua motivi ragazze però vi devo dire una cosa forse sarà perché c'è caldo i negozi di abbigliamento sono vuoti guardate sono vuoti proprio il fatto che non c'è freddo le persone giustamente non si muovono a comprarsi le cose mamma mia questo viola mi rivolta agli anni 80 quando si usava questo viola